Spettatori e share dei principali appuntamenti in televisione della giornata di martedì 20 giugno 2023. Tutti i dati. Sophie Cross, Rai 1, vince la serata con 2 milioni di telespettatori, e il 12,7% di share e battle film sono solo fantasmi, Canale 5, che, invece, ha ottenuto 1,5 milioni di utenti con il 10,3% di share. Terzo posto per il concerto di Amici, Amici Full Out, Italia 1, che è riuscito a totalizzare 1,4 milioni di spettatori, e il 10,1% di share. Di seguito tutti i dati relativi al prime time di martedì 20 giugno 2023. Rai 1 Sophie Cross, ha raccolto 2 milioni e 51 mila telespettatori, 12,7%. Canale 5, sono solo fantasmi ha totalizzato 1 milione e 585 mila spettatori, 10,3%. Rai 2 una famiglia mostruosa, ha avuto 1 milione e 171 mila spettatori, 7,2%. Italia 1 Amici Full Out, ha fatto compagnia a 1 milione e 436 mila spettatori, 10,1%. Rai 3 Cancelletto Carta Bianca, ha informato 1 milione e 264 mila spettatori, 8,8%. Rete 4 The Born Legacy ha raggiunto 626 mila spettatori, 4,5%. La 7 inchieste da fermo a cosa serve l'America ha convinto 656 mila spettatori, 4,1%. TV8 Victoria Cabello. Viaggi Pazzeschi, ha conquistato 378 mila spettatori, 2,7%. 9 avamposti nucleo operativo ostaggi in metropolitana, ha ottenuto 294 mila spettatori, 1,8%.